Stavamo parlando soprattutto di cene di Natale e di quelli che possono essere i motivi che spingono due commensali a discutere e a rovinare questa armonia che dovrebbe invece essere più forte di qualunque altra cosa. Abbiamo scoperto che il motivo principale è la politica, qualche volta sono le strade, qualche volta sono i cantanti preferiti, molto spesso il calcio. Ci si allena tutto l'anno in vista della linea. Voglio sapere, Daniele Adani, se e dove farà il suo pranzo di Natale. Buongiorno Daniele! Buongiorno, ben trovati. Buongiorno, buongiorno. Credo che il mio pranzo di Natale potrei anche farlo da mio fratello, che con la sua compagna, insieme a lui daranno la luce a ore. Ah, beh. Diciamo il mio primo nipotino. Bellissimo. Non vedo l'ora di andarlo a trovare. Proprio la vera natalità, proprio. Esatto. Quindi per venti minuti non parlerò di calcio. Molto bene. Anche meno. Ti faccio una domanda che magari non è bello fare per radio. Hai ancora i genitori, Daniele? No, non ho la mamma. Non ho la mamma, ho il papà e quindi ovviamente si sarà aggregato anche il papà. Si aggrega anche lui. Bene, bene. Il vecchio Pop. Vai. Perché Pop? Papà. Pop, sì, perché Pop, non so, lo chiamavamo così io il mio fratello quando ero da piccoli. Pop, allora anche da grande è rimasto Pop. Mi fa un po' più d'orso a chiotto, no? Certo, certo, certo. È molto affettuoso e poi è soltanto vostro. E a questo servono i nominari. Bravo, bravo, Linus. Allora, questa giornata che cosa ci dice? Ci dice che, insomma, salvo imprevisti il campionato è andato, ma era una cosa che si sapeva già ad agosto. Ma che fesso. E vabbè, ma cazzo, uno che va a vincere 3-0 a Napoli. Cosa vuol dire? Eh, ho capito. Ma invece no, invece la Juventus ha un, hai visto, questo gol al 96, ma lo scalamanzeggio, ha due punti di vantaggio l'Inter. Hai visto la partita ieri sera? Sì. Direi di sì, io direi la Juventus con le, diciamo così, con le, con le, lo suevos, no? Con le suevos. Perché, ragazzi, perché comunque, con il suo stile, diciamo così, no? Con la sua natura, alla fine porta più giocatori, ok? Dopo aver subito il gol. Sì. Nell'area del Monza, perché la Juventus prende il gol al 92esimo, porta più giocatori nell'area del Monza che il Monza nella sua stessa area a proteggerlo. Quindi, di conseguenza, la Juventus è andata, lo ha voluto anche il 2-1. Guarda, io ho visto, ho visto Monza-Juventus, cos'era, sabato sera, mi pare, o venerdì sera. Venerdì. Venerdì sera addirittura. Per una volta, almeno nel primo tempo, la Juventus ha provato a segnarne altri di gol, oltre a quello che ha fatto. Ha sbagliato anche un rigore. Quindi non è la solita vittoria di corto muso senza mai provarci. In qualche modo ci avevano anche provato. E poi mi piace che sia rispondente allo slogan di casa, cioè fino alla fine. Sì, ma quanti gol la Juventus fa anche proprio, veramente, alla fine, ultimi 20 minuti, ultima mezz'ora, perché ci crede. Io penso che sia una Juventus che non mollerà, perché ha qualità morali, ha cattiveria, fame, ha voglia di riscatto e vuole lasciare un segno. Bene, bene, bene. Invece Napoli ha giocato molto bene, primo tempo. Sì, sono d'accordo. Ha giocato bene. Ha giocato bene e ha creato anche delle occasioni, perché poi Sommer sta parando tanto. Voi pensate all'Inter che dà via un'ana, che realmente a Stati Unite sta facendo tanti errori e Sommer invece sta parando. Ma perché i portieri che sono forti in Italia, quando poi escono, non lo sono più? Cosa sta succedendo a Donna Rumma, che è diventato un po' insicuro? Ieri lo hanno anche spulso l'altro giorno. Diciamo che Donna Rumma è diventato un fenomeno prestissimo, cioè un proprio quasi predestinato. Veramente, 18-19 anni, se voi pensate che l'Europeo del 2021 è stato il miglior calciatore, non il miglior portiere, cioè proprio il miglior giocatore della manifestazione. Poi dopo, andando via, cambiando percorso, probabilmente qualche certezza su qualche errore è fatto, è calata, tenete presente che è sempre un classe 99, ragazzi. È giovanissimo, cioè è giovane ancora. È giovanissimo, non ha ancora 24 anni. Potrebbe giocare ancora per altri 15 anni senza problemi. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, batterà ogni record. Ma quello che tutti stanno aspettando è un commento sul Mourinho che parla in portoghese. Madonna mia, Mourinho veramente. Oh, Mourinho come ce l'ha in carta sempre. Tu pensi di sorprendere Mourinho? E invece Mourinho decide lui dove andare, come orientare il dibattito. Chiaramente, io penso questo, da appassionato di calcio giocato, mi piacerebbe che lui entrasse un po' dentro più le pieghe della sua Roma a livello calcistico. Perché mi piacerebbe sentire cosa pensa della Roma, di Dybala, di Lukaku, di Paredes, di Pellegrini. Non so, capito? Alzare gli obiettivi. Invece lui sposta. Sempre. Secondo me, capendo benissimo, conoscendo il paese, che è un paese molto polemico, che te lo giri un po' come vuoi. Perché ti viene dietro su altre dinamiche più che quelle da campo. E quindi palleggia tutti quanti. La cosa che lui ha parlato in portoghese l'ha giustificata dicendo io, pur parlando bene l'italiano, non ho una completa padronanza, non voglio essere frainteso, quindi vi parlo soltanto in portoghese. E tutti hanno dovuto aspettare che ci fosse uno che traducesse perfettamente dal portoghese prima di poter commentare. Ma perché l'ha fatto? Perché il giorno prima si era lamentato per alcune cose, che avevano avuto una eco piuttosto importante. Si era lamentato dell'arbitro dicendo che contro la Roma era sempre stato non all'altezza. Si era lamentato di quello al VAR. Si era lamentato di Berardi che dice che è un giocatore forte ma a volte antisportivo. E sostiene di essere stato travisato. Sì, però ragazzi il punto è questo. Chi è che deve tutelare lo svolgimento giusto sia della comunicazione, quindi pre e post partita, calcistici, quindi dentro la partita. Chi è? Sono le televisioni che prendono il prodotto. E poi sono tramiti per la gente, che dovrebbe essere veramente quelli che godono dello spettacolo. La Lega? Perché lui quante volte legna la Lega? Allora io dico, alla fine Murigny, in questo paese si va a incastrare dentro gli errori di gestione che sono tipici del nostro paese e palleggia tutti come meglio crede perché ha un'intelligenza superiore. Non dico che sia animato sempre dal giusto, però è la risposta alle incongruenze che ci sono nel nostro paese. Almeno parlo dal punto di vista calcistico, ragazzi. Perfetto, chiarissimo. Comunque ieri ha fatto quella cosa lì, piace o non piace, ma è un momento di televisione, di show, diciamo. Assolutamente. Grazie Daniele, buona giornata, ci sentiamo l'uomo di prossimo. Un abbraccio, ciao caro. DJ Chiama Italia